Siamo insieme, dopo ti stavo battendo perchè questo c'è di passi che vado a scoprire Siamo insieme, dopo ti stavo facendo la scoprire Grazie. 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 Tieno, tieno, tieno! Andiamo per quella però eh! Oh! 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 Andiamo giù, giù, giù. Vai, vai, vai. Buono! Buono, è buono! Buono, è buono, è buono! Andrei, buono Andrei, va bene! Vai, 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 vaici Andrei, vaici Andrei, vaici, vaici! Ancora! Anzi, alziamoci! Oh! E' buono! Buono, buono, buono! Buono, buono, buono! Vai dai dai, va bene, buono! Questi rimangono, mi sono cambiati un po', per rispetto alle loro cose. Buono, buono! 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 Stacca di uno, stacca di uno Buona luta 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 bravo roberto buona bravo roberto bravo roberto Fa colpa bravo roberto バvan ha il bravo 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 Buongiorno! 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 Buongiorno 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 Ah ti Andrea X, 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 X X, X, X X, X X, X 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 Lunga, lunga, lunga Va bene, dai, dai Andre, oh Andre, calma Va bene, lui Lascia, ragione, dai Dai, Andre, dai Dai, Andre Dai, Andre Bravo, Cacini Andre, non be' Bravo Dai, 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 non mo' la, non mo' la Fuori Bravo 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 E' buono E' buono Gira, ti roba Voi, hai voluto tre e mezzo E' buono E' buono E' buono E' buono E' buono E' buono Iiii Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 qualcuno me lo chiede, ma qualcuno di resto sono ben slibri no, no, vedo il medio, qua il medio c'è in televisione, tutti venduti andiamo a vedere vai alberto, guarda pescini uomo a pe, a pe si, si, si pronta, venga, prossimo, non ci stanno è bene, non serve pure il giudice dai andrei dai andrei dai andrei oh luca tutto il dia faccia entrare luca e tu tre vai dai andrei bravo Jacopo bravo occhio luca occhio stai stretto uomo quale è loro ti faccio paura ma vuole? sto girando incredible come sta dentro? estou stupido Vero? Sicuro Giuseppe da uno al posto di roba Centromano Maraoli 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 4-0 Mono al posto di lui Luca Centromano Purtroppo Siamo in una squadra fortuna L'ospitale siamo noi Come cazzo si fanno? Dai lui, dai lui Grande Luca Vai Giuseppe Vai Giuseppe Laterale, laterale Scusami Vai Giuseppe Vai Giuseppe Vai Giuseppe Vai Giuseppe Vai Giuseppe Uno dei miei Uno dei miei Uno dei miei Non ci hai fatto caso Cloud Vai Giuseppe Uno dei miei Uno dei miei Torniamo 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 Solo! Uomo! Qua il gioco! Qua il gioco! Andiamo bene! Andiamo! Non suono! Adesso Andiamo! Grazie a tutti. 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 occhio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. vai, vai. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. uomo va bene abbracciano luca uomo dai jacopi uomo mannaccia di passare la mamma d'avviso non c'assi con la mamma 4 ma non è non è Grazie a tutti. Cinque. 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 C'è un po' di salvo. Un po' di salvo. Solo. Solo. Dai André. Dai André. Sali! Sali, sali, sali Sali, buon piede Bravissimo È buono, è buono Buttati, battaglia, una volta che stanno tirando ti butti battaglia, è un bravito Uomo, bene, sei tua Capo, muro Grazie Grazie Dai, facciamo due passi avanti Dai, facciamo due passi avanti L'anticipato 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 lascia a perdere Giuseppe basta voce va, lascia a perdere Giuseppe basta voce, non pensare lascia a perdere Giuseppe non pensare vai, non pensare non pensare se l'ho fatto male proprio lascia lasciala Carlo, lascia avanti alla palla Giuseppe è dietro è dietro arriva qua dai Carlo, dai Carlo, stringi i denti dai Carlo ho attaccato dai Carlo dai Carlo dai Carlo vai 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 vado a te va vai 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 va bene va bene va bene va bene vai che non vanno niente bravo 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 grande nuovo va caldo il uomo ma no non c'è un uomo non c'è un uomo non c'è un uomo non c'è un uomo ma non c'è ma Carlo, a Carlo, com'è? Lui, stai! Dai, stai, dai, stai! Illumine! Sì, stai! Mi metti in giro! Mi metti in gira! Mi metti in gira! Ma che si faccia? Lugino! Non vado! Si ha capito? Vabbè, vabbè! Grande Lu! Buon anno! Seguiamo! Tu Alessa! Tu Alessa! Aspetta, aspetta! Solo Fulvio! Solo! Allunga! Allunga Alessa! Allunga! Oh! Allunga! Vai! Ehi! Occhio Fulguier! Occhio Fulguier! Andate il 7! Bravo Alessa! Grande Alessa! Buona! Vai! 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 So! Arrivo! Uomo! Sì! Sì! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Salite! Portiamo su! Portiamo su! Occhio Fulguier! Occhio Fulguier! Occhio Fulguier! Occhio Fulguier! Occhio Fulguier! Cambio! Cambio! Dai Giamma! Dai Giamma! Andrea! Attacca! 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 Dai Giamma! Dai Giamma! Chiudi la massima! Chiudi la massima! Guarda! Penso le sette! Ottimo! Due! 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 Carlo ce l'hai dietro? Guardi! Piano Luca, piano Luca, non va a ballo. Civo. Buona. Grande Sergio! Buona Sergio! Occhio qua dietro! Buona squadra! Buona squadra! Buona squadra! No, no, no! No, no, no! Da questa! Scusa! Centro! Centro! Va bene, va bene! Questo è un peso di potere! No, no, no! Ma parlava sempre davanti! Darco, abusi i poteri! Ma come cazzo vanno? No, no, no! No, no! Marco, dai Marco! Oh, c'è un Marco... Oh, c'è un Marco! Oh, c'è un Marco! No, no, no! No, no! No, no! No, no! Sarà solo! Sarà solo! Sarà solo! Sarà solo! Sarà solo! Non ci serve! Grande! Arriva Carlo! Sarà il Marco! È buona! 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 il vero sorrino sta in campo grandi guagliù grande toni non giusto che tremo acqua mister buona capità grande presidente ma che ci ha mangiato ma che ci ha mangiato per questa vittoria a te, proprio tu non si parlava proprio non si parlava è qua l'altra settimana è venuta 7 minuti 7 minuti ho fatto gli auguri di compleanno privatamente non so che manca per il momento meno male che ci sta felice arriva Carlo uomo Carlo arriva uomo buona vabbè vabbè calma spizza ehi calma calma fulvio dai 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 la 4 2 3 1 vabbè 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 è palese è palese uomo alessà uomo il buon madonna che vuoi passere la palla vai 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 ai lu grande lu buona luchi abbassa di giambarco luca fagliani centrale luca ci sta giambarco di là equilibrato ria bravo rientra giandomite sempre si guarda ancora nonna è pacchè troppo bellificio la back 선생님 in Palla a terra, mi raccomando, palla a terra! Solo, solo, solo! Uomo! Uomo, Carlo, Pulvio! Arriba tu! Sergio! Grande Sergio! Grande Sergio! Dai Giuseppe, dai Giuseppe! Dai Giuseppe! Dai Giuseppe! Guarda! 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 Vai Giuseppe! Salta... Voi Giuseppe! Dai Guagliù! Dai, dai! Cuocchio Giuseppe! Occhio Lu! Occhio Giammano, non ti andrà, no! Non devi portare la palla a casa a giocare. Un'attention! Dai Giuseppe, dai! Dai Giuseppe, dai Giuseppe! Dai Giuseppe, dai Giuseppe! Dai Giuseppe, dai Giuseppe! Non scartate, dai Giuseppe! Non scartate, non scartate! Calma, calma! Calma, calma! A vera, a vera! Dai Alessandro! Dai Alessandro! Non è il show! Tutto sta a pregiare con lui, la donna, la donna! Occhio Carlo! Buona! Uomo! Uomo! L'imbalza! Dai Giuseppe! Dai Giuseppe! Uomo fu! Luca, Luca fu! grande toni non ce la fa mister solo che cazzo non lo sa ah no dovrebbe stare a fianco a Giuseppe solo arriva vai to Sergio grande sé vai to dai Tony la luta dai l'essere dai l'essere che ricordo ragazzi dobbiamo calmare si va a fare solo casino a buttare la palla in base ma giochiamo come se lo fanno io dai l'essere dai l'essere a fianco a Giuseppe dai l'essere a fianco a Giuseppe perché non saliamo siamo tutti quanti rientra Luca rientra Luca aspetta Matteo venga 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 con più tecnica con più tecnica cento volte grande Alessa dai dai sali 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 saliamo sali 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 dai che cazzo ci sta ho avuto la nasta bu oh si cosa sa te la donna sono sani solo uomo arriva solo solo arriva via va bene arrivate qua uomo Giuseppe tienila Giuseppe tienila uomo va bene Giuseppe uomo grande Giuseppe grande Giuseppe con toni con toni con toni centrale con toni centrale tu no rimani più in mezzo al campo ok stai forse mi giuseppe c'è sali sani sali sali sani salo vabbè vabbè ti fai la palla trinti quattro rin dai 2 minuti, dai. Tutta la via. Perché tutto? Tutta la via. Ho fatto male. Robi, ci s'appoggio, Robi, ci succede. Devo essere in l'alba. Attacchi, Robi, attacchi, attacchi, attacchi. No, 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 no. No, 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 no. Lunga, lunga. Appugati, 15. La punta, la punta. Vai, vai, è buona. Buona, vorrei, graffetto. oh la palla Giuseppe ha detto frate ti pavessi segnato la piazza è bella la rilazzo ma si può fare un primo piano arriva dai Giambà dai Giambà dai Francesco uomo uomo va bene va bene va bene va bene calma calma finito finito ora cambio Luca vai Francesco dai Fra dai Fra vai Fra grande amici mi hanno capito che ti cagano qui su arriva dai Fra dai Fra dai Fra dai Fra dai Fra bravo cance sta là sta là sta là su tutto cance non importa grande Fra sta là e arriva solo solo dai Fra dai Fra vai bravo 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 questo è butta la butta dai fra, dai fra sali, sali uno buono oh ah mi sembra rancorola ma no ecco hai strato dai dai guagliù dai guagliù attraverlo è finita la partita è buona dunque è finita va bene qua finita le mani, le mani e il fallo con il gioco non c'è non lo pensava poi non c'entra niente annaggia a chi ce li manda annaggia a chi ce li manda Grazie. Grazie.